Tutto pronto per la campagna Scuole Sicure. I test rapidi antigenici negli istituti scolastici superiori della Retino inizieranno infatti già domani mattina, sebbene il monitoraggio entrerà a pieno regime solamente da lunedì 18 gennaio. Venerdì sarà così il turno del liceo classico Petrarca di Via Cavour, la scuola scelta per la presentazione del progetto. Saranno poi 9 in tutto gli istituti interessati dal progetto nel territorio provinciale individuati dall'Agenzia Regionale di Sanità. Non si tratterà di uno screening a tappeto, bensì ogni settimana saranno effettuati test su circa 950 studenti in tutta l'area vasta. In tutti gli istituti prescelti infatti saranno coinvolti 5 alunni per ogni classe della sezione individuata per il monitoraggio, quindi 25 studenti per ogni indirizzo di studio. L'operazione sarà poi ripetuta nelle settimane successive ogni volta su altri 5 studenti delle stesse classi, garantendo così una costante verifica della situazione. In caso di sospetta positività, cioè con esito positivo del test rapido, verrà effettuato il tampone di verifica. Nel caso di contagio verificato si attiverà subito l'attività di tracciamento per il resto della classe e per gli insegnanti.